Benvenuti al presepe artistico poliscenico di Salice e Salentino, al nostro graditissimo ospite dottor Vincenzo Di Vella, presidente dell'omonima azienda agroalimentare famosissima in Italia e all'estero, al sindaco dottor Pipitondo, alla giunta, al consiglio comunale di Salice, alle autorità politiche, militari, civili e religiose e a tutta la cittadinanza che è qui presente. Un grazie di vero cuore al sindaco e alla giunta comunale della vicinissima a noi. Un grazie al sindaco di Guagazio. Quest'anno per il presente è un anno storico e magico dopo numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero, mi sembra di avermi già ricordati con la scorsa edizione. Quest'anno, finalmente, dopo 18 anni, il presepe ha ricevuto dalla giunta comunale di Salice e Salentino il riconoscimento più ambito e allo stesso tempo più prezioso che un uomo in arte possa ricevere quello di essere riconosciuti nel proprio paese. Alessio, il dottor Livene invece, inaugurerà la volta all'edizione. subito dopo, poi, la benedizione. Prego, signore. Grazie a tutti. Sì, entriamo pure dentro. unicron